Buongiorno, sono Giuliano Starna della concessionaria Volkswagen Autoscienti Giustozzi. In questo video vedremo i vantaggi della gamma metano e l'importante offerta commerciale di questo mese Care4U. Vantaggi della gamma metano dove abbiamo efficienza ed economicità. Economicità in quanto tutte le nostre vetture, essendo monovalenti, usufruiscono di una riduzione del bollo pari al 75%. Efficienza in quanto tutte le nostre vetture a metano non risentono dei blocchi del traffico. Pensa che con una Golf 7 metano, con un solo pieno, può percorrere oltre 400 km. Con la nostra offerta Care4U, le prime tre rate, la manutenzione e la polizza a garanzia della tua salute, le paghiamo noi. Da Autoscienti Giustozzi abbiamo 42 Golf, 18 Polo e 12 Up in pronta consegna. Abbiamo detto tutto, non ti resta che mettere in contatto con noi sul nostro sito web, sul nostro canale Facebook o YouTube, oppure tramite WhatsApp sul numero che vedi qui sotto.